buona serata a tutti cari amici fan ebbene dopo un po questa mattina ancora provato dopo ahimè la molto precoce morte di Kobe Bryant grande leggenda dello sport della vita dentro e fuori soprattutto subito dopo essere tornato a recitare ad esprimermi attraverso la disciplina del teatro presso la casa del fare assieme in collaborazione con il centro lettura della casa del fare assieme questa sera storia molto divertente del dopo di campagna il dopo di città con uno staff altrettanto professionale spero di avere le fotografie così da proporre qualcosa su youtube su facebook così vi faccio vedere un po l'ambiente anche il tutto com'è stato anche se si sa è meglio viverle certe emozioni dal vivo che in fotografia comunque vabbè passo al vero modio per cui sono qui per l'ennesimo video di oggi diciamo che un po ci prendo gusto a fare i video va però mi piace perché comunque l'arte oratorio è un po il mio forte poi anche l'esprimermi attraverso il teatro e il vero motivo per cui sono qui bando alle cuance e per parlare delle news che sono uscite proprio subito dopo il pay per view royal ramboli innanzitutto bisogna dire che rest of us ha rivelato che è già firmato con la dub da bui un contratto di tre anni a condizioni economiche molto vantaggiose pw insider ha riportato che la federazione lo ha fatto arrivare con un jet privato e lo ha nascosto fino al momento della sua entrata per mantenere segretissimo suo ritorno sono stati confermati anche i contatti di edge con all elite wrestling ma vince mcmahon che non era sicuro di farlo tornare le ha proposto subito un contratto dopo che è stato dichiarato idoneo per lottare inoltre sua moglie la moglie di edge bet phoenix nella rissa reale a 30 anni ha subito un duro colpo alla testa come direbbe lino bambia la chepa e ha avuto una fuoriuscita di sangue importante però diciamo che ha continuato a lottare poi una volta eliminata ha subito le le cure dello staff medico da 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 blu e inoltre per quando riguarda la rissa reale dei maschi bisogna dire che in virtù di quanto è successo nella rissa reale maschile femminile il giornalista specialista del wrestling americano dei mal sarà detto che è molto probabilmente vedremo a brestelmania roman reigns vs bray wyatt per il titolo universale e drew mckinder condo brock lesnar e a proposito di brock lesnar la bestia incarnata ha infrando diversi record nella rissa reale infatti ha fatto ben 13 e limita eliminazioni mi pare comunque dal numero 2 fino al numero 13 o 14 dato che poi è stato eliminato proprio dallo scorsese drew mckintyre e e oltre a questo bisogna dire sempre ritornando ad edge lo stesso dave mazzera ha rivelato che dopo quando abbiamo visto la rissa reale edge se la dovrebbe vedere con randy horton avreste il viene a 36 un match che non ricordo bene ma credo comunque che due hanno già fatto penso almeno una volta ai tempi degli anni 2000 quindi credo sarà una riproposizione ovviamente in versione tra scherzosamente rimasterizzate nel senso randy horton ovviamente in a che avanza anche lui nella carriera e nell'età edge ultra quarantenne quindi che altro dire io sono curiosissimo di partire per questo viaggio che ci porterà fino alla 36esima edizione di prestelmania sarò molto presente con i miei video per aggiornamenti e notizie se purtroppo dovrò fare a meno per il pc credo a meno per una 10 10 12 giorni per motivi un po per revisionare il computer come ogni anno però appena ritornerà nella mia casa nella mia stanza il pc ritornerò a fare video però li farò ancora per un altro paio di giorni penso almeno tutta questa settimana la prossima diciamo per almeno due settimane piene farò ancora video quindi che dire non vedo l'ora sono infermendo per la puntata di questa notte dirò per smackdown dovremmo aspettare sabato per vedere cosa succederà e ovviamente con un occhio di riguardo anche ad nxt in cui il viaggio per nxt take over portland è già iniziato con quindi due match al momento ufficializzato di johnny wrestling gargano contro fin belor e bianca belair che ricorda ha fatto una bellissima prestazione alla rissa reale a 30 donne alla royal rumble che affronterà la campionessa ria rible che ha strappato il titolo a china basle che si sarà entrata come numero 30 alla rissa reale ma insomma ha fatto vedere qualcosina già e quindi insomma staremo a vedere vediamo già se questa notte la stessa china che credo si dovrebbe presentare a roma magari chissà per lanciare una sfida proprio a ormai l'eterna campionessa baggy lynch bene con questo è tutto domani penso sicuro arriverà un video su sul basket sulla serie a del basket italiana e approfitto di questo per dire che petrucci il presidente della federazione italiana palacanestro della fi ha ufficializzato e indetto un minuto di silenzio a partire da oggi fino a domenica in cordoglio per la dipartita di kobe bryan su tutti i campi minori e maggiori di palacanestro italiana a questo su questa cosa sono d'accordo al 200 anzi al 300 per cento con petrucci quindi stavo dicendo domani un video sulla serie a di basket e poi credo un altro sul nostro amatissimo wrestling aggiornamento sui primi movimenti in previsione degli eventi speciali prossimi anche perché comunque la wwe ha in canna allora almeno sicuro due per view prima di wrestlemania considerando i roster principali se ci mettiamo anche nexti ce ne sono tre quattro bene dal vostro nicola de luci è davvero tutto alla prossima buona serata buona notte buona cena ci vediamo domani ciao 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 ciao